Alla verso l'8 disturbato dalla pressione del giocatore dell'Ankos Roma che adesso alla meglio può passare l'8 subito in verticale verso il 6 e poi in tapina arriva subito l'1-0 dell'Ankos Roma con Cristian Bellini quarto centro stagionale dopo 52 secondi passa avanti l'Ankos Roma 1-0 Proietti Eganciarori ne approfitta non si era capita la difesa dell'Ankos Roma con Chichi che l'aveva toccata troppo morbida a metà fra Alessandrini e Proietti eganciarori ci mette il gambone 1-1 Un po' avanti Chichi non è riuscito ad arrivare Cimariani subito con l'esterno però il numero 8 che salta secco Proietti Ancora Lotto che calcia sullo primo palo batte Alessandrini la ribalta del Real Granella dopo 14 minuti 2-1 C'è Patiglia larghissimo a sinistra l'idea e però Franci che sposta il pallone poi si appoggia Bellini che carica fortissimo non riesce a trattenere la conclusione Pacelli doppietta personale per il numero 8 2-2 a Ostia Antica Dall'8 chiude Patiglia Bellini in no verticale da Franci è messa male alla difesa del Real Granella si sta inserendo anche Galluzzo Palla dietro però Bellini che spacca la porta tripletta personale per il numero 8 primo tempo super di Cristian Bellini 3-2 a Ankos Alessandrini palla lunga verso la porta colpendo direttamente la traversa lo stava concludendo il primo tempo nel migliore dei modi il numero 1 dell'Ankos Roma Carica il pallone ma lo fa male Mariani in tercetta conduce Mariani conclude deviazione Cangerori dentro l'area di rigore con la puntata pareggia i conti è 3-3 a Ostia Antica dopo 4 minuti nel corso della ripresa si gira Milazzo copre Cupperi Bellini Bionci a chiudere tutto a girarsi a dare direttamente in porta ma trova la risposta di Alessandrini che mette in angolo Franci palla a metà favorisce Cangerori che la lascia Mariani che va con il piazzato trova l'angolino e porta nuovamente avanti l'area la granella gollo stupendo di Mariani il quattordicesimo in questo campionato chiude Mariani Milazzo con il tacco ancora però Franci bella finta ma andrà a voto due difensori Bellini che parata di Pacelli con la mano aperta Galluzzo conduce Sterza si ferma gollo stupendo dopo Mariani Federico Galluzzo lo fa ancora più bello 4-4 a Ostia Antica trova Padiglia con Proietti che si è staccato anche in fase offensiva Padiglia con l'esterno da Franci liberissimo Galluzzo dall'altra parte Galluzzo destro trova l'angolino in diagonale porta avanti l'Ankos Roma 5-4 doppietta nel giro di pochissimi minuti per Federico Galluzzo 3 in barriera però Alessandrini parte l'8 riesce a trovare lo spazio giusto però colpire la difesa dell'Ankos Roma 5-5 in campo il pallone l'8 chiude Milazzo Galluzzo può diventare un'azione pericolosa adesso però l'Ankos Roma con Federico Galluzzo ci mette Guantoni Pacelli palla dietro però Pacelli che trova i cangiarori è bello il controllo palla alta però l'8 che viene anticipato Valerio Mariani al volo Mariani al volo 6-5 per il Real Granella due gol uno più bello dell'altro però Valerio Mariani quindicesimo gol in questo campionato però non c'è più tempo Ostia Antica vince il Real Granella che ritrova la vittoria dopo tre giornate Grazie